Fire ha 43 anni con Bitcoin. Allora, questo tempo te vuole andare in Fire con Bitcoin all'età di 43 anni. Io presumo che abbia già 43 anni. Ciao, avendo 250.000 euro investiti in Bitcoin, vivendo in casa di proprietà e facendo una vita semplice con spese mensili di 800 euro al mese, quindi praticamente vive da solo, sicuramente, andare in Fire prelevando, in modo conservativo, data la sua alta volatilità, solo un decimo del suo rendimento storico per il 50% anno, quindi sta presumendo che farà il 50% per i prossimi almeno 40 anni, se non dovesse succedere di nulla, quindi arrivare attorno agli 83 anni, in modo conservativo, il 50%, quindi il 5%, con una pensione IMSS di 580 euro al mese, prevista dai 69 anni in poi, casa di proprietà e 40.000 euro in metalli preziosi per le spese impreviste, quindi lui ha il suo fondo di emergenza in metalli preziosi, sono 40.000 euro. Allora, 40.000 euro, basandosi che lui spende solo 800 euro al mese, sono anche troppi. Dal mio punto di vista potrebbe tranquillamente mantenersi attorno ai 10-15.000. Poi, metalli preziosi perché? Cioè, io li avrei messi più che altro in bond, almeno è una cosa che dal mio punto di vista può mantenere di più il suo controvalore nel tempo, andando a seguire anche i vari andamenti dell'inflazione, è più semplice da vendere, e anche perché, ora, euro in metalli preziosi, quindi non sappiamo se lui detiene proprio a casa oro o argento, se li detiene ancora peggio, voglio vedere se domani va a venderli, non so, a un comproore, qualcuno gli dà 40.000 euro cash, anche in quel caso poi dove se li porta? Se li porta in tasca, vabbè. Questo è un altro problema, e non lasciandosi chiusa la porta, insomma, del fare lavoretti part-time, arrotondare, quindi già stai dicendo che non ce la fai a vivere. Vabbè, comunque, calcolando il 50% medio anno di crescita, significa che Bitcoin potrebbe arrivare attorno ai 3 milioni e mezzo tra dieci anni, cosa praticamente implosibile, anche perché, calcolando, basandosi sulla legge del power loan, che è una legge nuova, basata in legge nuova, in realtà è semplicemente uscita adesso, ma sono dei calcoli matematici, ipoteticamente tra circa dieci anni, quindi attorno al 2035, Bitcoin dovrebbe arrivare attorno al controllo di un milione, un milione che non sono altri milioni, quindi sicuramente già lo sta facendo il 50% anno, anche perché poi, se dovesse arrivare ad avere un 50% medio di crescita annua, significa anche avere una capitalizzazione, che è attorno alla capitalizzazione quasi totale del mercato intero, quindi sarebbe quasi impossibile. Dopodiché, il fatto di prendere il 5% di cosa? Perché se tu prendi il 5% del controvalore stabilito da te, è un contro, nel senso, io ho 250 mila euro, questi 250 mila euro rimarranno a 250 mila euro anche nei periodi di down, perché comunque il mercato scenderà sicuramente, non avrà una perdita del 70% come gli altri anni, ma continuerà comunque ad avere degli alti e bassi meno gravi rispetto al passato, ma sicuramente importanti, quindi 15, 20, 25, 30%. Questo è una cosa, di fatto, è un asset ad oggi speculativo, quindi sicuramente ci saranno questi alti e bassi. Ma la cosa sola è che lui, prendendo il 5%, dice conservativo, dal mio punto di vista non è conservativo, vuole continuare a mantenere il suo stile di vita attorno agli 800 euro missili, che già abbiamo calcolato che attorno ai prossimi dieci anni, con un'inflazione del 3%, dovrebbe arrivare a spendere all'incirca 1.200-1.300 euro, quindi già in questo caso non è più un controvalore plausibile, il fatto di spendere 800 euro, quindi prendere solo il 5%, basandosi su 250.000 di controvalore. Dal mio punto di vista è praticamente impossibile riuscire a fare una cosa del genere, solo con un capitale così piccolo, avrebbe necessità, dal mio punto di vista, di avere almeno 3, 4, 5 milioni di euro in bitcoin. Perché così tanto? Perché la volatilità del prezzo di bitcoin gli darebbe comunque una garanzia di rimanere attorno al 1.500-2 milioni di controvalore nei punti più bassi, e in questo caso quindi andando a valutare un prelievo dell'1-2%, andrebbe a garantirsi almeno attorno a quello che gli serve, quello che gli serve veramente. Anche perché poi andando a prendere il 5% di 250.000 euro, si dirà che stai prendendo a 12.500 euro. 12.500 euro significa circa 1.050 euro al mese. Poi a 69 anni scatta la pensione, insomma è qualcosa che non regge. Oltretutto non sappiamo come andrà il mercato delle cripto-rute, quindi anche bitcoin nel prossimo futuro a livello di controvalore. Non sappiamo se ci saranno decenni neri a livello legislativo o anche a livello tecnologico. Non sappiamo se verrà superato come tecnologia, non sappiamo se verrà bandito, non sappiamo se verrà utilizzato, non sappiamo tante cose. Inoltre già il fatto dell'arrivo degli ETF all'interno del mercato delle criptovalute e quindi di bitcoin, ha cambiato nettamente la narrativa. Una narrativa che prima prevedeva, per esempio, nel periodo halving, un dump anche del 30-40%. Ad oggi abbiamo, sennò avuto attorno al 25% con un recupero anche abbastanza veloce. Quindi stiamo vedendo una narrativa nettamente differente che è in crescita. Inoltre, se dovesse continuare ad essere una riserva di valore, come l'è sempre stato già dall'inizio, anche se l'idea era quella di utilizzarlo come una moneta di scambio, il controvalore di bitcoin che potrà variare non garantirà più la possibilità di poterlo vendere in maniera molto semplice e soprattutto in maniera del tutto, diciamo, tranquilla. Anche perché se questi 250.000 euro, spero siano stati indichiarati perché altrimenti è ancora peggio, questi 250.000 euro dovrà pagarci del 26%, il 26% di tasse sulla plusvalenza, ma se lui ad oggi è 250.000 tra dieci anni, è plausibile che salga per dire a mezzo milione, quindi dovrà pagare il 26% di tasse sui 250.000 successivi, con gigante quello che preleverà. E quindi questo comporterà una spesa maggiore che non gli basterà più prendere il 5%. Quindi andare in fire con bitcoin è plausibile, è possibile, ma è possibile solo se si hanno grossi capitali, almeno 4-5 milioni di euro, almeno se uno vuole vivere con una persona tranquilla o comune, come sta dicendo lui. Mentre se si apre con uno stile di vita, come per esempio lo ce l'ho io, che attorno ai 30.000-40.000 euro l'anno, in quel caso non basta neanche, anche perché basta avere una famiglia, quindi una madre, padre e anche solo un bambino con una casa in affitto o una casa per dire col nupo, e già non bastano più. Inoltre avere una casa di proprietà significa anche tenerla, quindi manutenerla, quindi 800 euro mensili basati su cosa. Ecco, quindi dal mio punto di vista bisognerebbe farsi un po' di calcoli, un po' di calcoli alla mano fatti per il verso, probabilmente soltanto un sognatore, perché andare in fire con solo 250.000 euro, io mi terrei il lavoro, rimarrei a lavorare e mi starei fermo fino a che magari il bitcoin non arrivi a veramente un milione, e quindi in questo caso 250.000 diviso 70, vediamo a quanto equivale, sono praticamente 3 bitcoin e mezzo, che per un milione diventerebbero 3 milioni e mezzo. Allora tra 10 anni, arrivando a 55 anni, ecco, a 55 anni puoi andare in pensione, ti mancano ancora circa 15 anni di lavoro, 14 anni di lavoro, dipende dalla legge, e 15 anni con 3 milioni e mezzo di controvalore, io andrei a fare un 50% cash out, andrei a investirlo all'interno di un mercato molto più classico, sicuro e soprattutto anche con una redditività sicuramente più certa, e il restante magari puoi continuare a detenare il bitcoin, anche per una semplice motivazione come tesoretto, anche perché puoi avere del metallo prezioso per andarsi a proteggere le proprie spese, quelle improvvise, quindi il conto emergenza. Se hai già bitcoin e hai anche oro e argento, dal mio punto di vista è una stupidaggine. Converrebbe a questo punto o detenere ancora bitcoin, oppure spostare gran parte del capitale, che hai 250.000 euro investiti al 10% medioannuo, che è praticamente l'andamento del mercato azionario americano, si ha all'intorno, insomma a grosse cifre, 2.500 euro, per i prossimi magari, non so, 10 anni, arrivi ad avere delle cifre considerevoli, magari 125.000 euro in quel modo, 125.000 euro in bitcoin. Poi bisogna anche capire, lui lo fa perché ci crede in bitcoin e quindi vuole detenere bitcoin, o perché magari questi bitcoin li vuole vendere e vuole continuare a vivere con i guadagni ottenuti da bitcoin. Allora a quel caso non ci avrebbe neanche più sesso detenere bitcoin per il lungo periodo, anche perché il lungo periodo è una specie di certezza, non di, anzi di, di conservazione del controvalore, non di sicurezza dell'aumento del controvalore, perché quello non ce lo dà nessuno, non ce lo dà nessun asset e sicuramente tantomeno bitcoin, almeno gli asset come le azioni o come i mercati delle materie prime e quant'altro hanno uno storico maggiore e quindi ci si base, ci si fida, ma è anche vero che insomma abbiamo visto cosa è successo con il covid, abbiamo visto cosa è successo con la guerra, abbiamo visto cosa è successo con tutti i vari momenti storici anche nel 2008 e quant'altro, abbiamo visto che non è sempre così, può essere per tanto tempo, un 250 ti dà una piccola finestra di azione e dal mio punto di vista non basta per coprire le proprie spese, poi 800 euro è anche un part time, quindi impegniamoci un po' di più, continuiamo a lavorare e vediamo che riusciamo a trovare la soluzione.